Eeeh, amici bellini, ci siamo guardati un po' di tv italiana ieri, eh? Sì, non l'ho voluto fare, un po' troppa pubblicità per quanto mi riguarda, ma... ha ognuno le sue piattaforme, vogliamo parlare di questa cosa? E parliamone! E' un martedì pazzesco! Rumori incredibili, rumori! Allora, amici belli, buon martedì! Sì, benvenuto Antonio Pescicolo, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, iscrivetevi al canale che fate, lurcate solamente! Eh dai, oramai è sgamato! Il 60% di voi guarda, clicca e non si iscrive, non capisco il perché! Iscrivetevi, lasciate un like ora! Lo so, vogliamo parlare di questo fatto di Iene, ma prima, ovviamente, la notizia più importante, no? Come hanno fatto loro ieri... Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid, il che mi fa ridere per un paio di motivi. Prima di tutto, non ho visto... I articoli su Ancelotti si sprecavano quando faceva delle belle gare con l'Everton, e poi è sparita la narrativa su Ancelotti, quando poi rovinosamente sono caduti, si sono fatti superare anche dal Leeds, del loco Bielsa. Dopodiché, però, una riflessione va fatta. Il Real Madrid sceglie Ancelotti, non sceglie Allegri, probabilmente non ci ha mai pensato. Vi ricordate quella notizia? Se Zidane lascia il Real Madrid, è Allegri, e quindi Allegri non è per il Napoli. Allegri non è mai stato per il Napoli, e il Real Madrid probabilmente non ci ha mai pensato, perché Allegri era a spasso in tutto questo tempo, e non ci ha pensato il Paris Saint Germain, e non ci ha pensato il Chelsea, e non ci ha pensato il Real Madrid. Ma la sorte di Allegri, è simpatico farlo, sottolinearlo, è quella che poi alla fine Sarri sta avendo, che se è vero come è vero, che si dovrà accontentare di un ingaggio molto ridotto rispetto a quelle che erano le sue richieste, se la Lazio verrà incontro e troveranno un compromesso economico. Quindi il Real Madrid non ha mai pensato nemmeno a Sarri, e non ha mai pensato nemmeno a Conte. Capite com'è interessante questo parallelo, eccetera, eccetera. Evidentemente si lasciano dei buoni ricordi, di evidentemente essere un signore più importante a volte di quello che fai sul campo. Non lo so, sono scelte. Vediamo se questa scelta il Real Madrid la pagherà, oppure se sarà fruttuosa. Che ne sai, che ne sai. Ma questo è calcio internazionale. Calcio internazionale che mi interessa moltissimo. Io voglio allargare gli orizzonti, assolutamente. Ma tu devi parlare delle Iene. Sì, è chiaro, è chiaro, adesso ne parliamo. Ma prima è importante parlare di Politano. Politano. Signori, capite com'è brutto? Rendetevi conto di com'è brutto. Questo è il modo in cui tu distruggi psicologicamente un calciatore, lo affossi definitivamente. Non lo chiamavi proprio. Non lo chiamavi proprio. Perché che mi dai l'illusione? Lo fai giocare, gli dai l'opportunità col San Marino. Nei Kilo ti ha fatto due gol. Ma più di questo, che cosa ti doveva fare? Vogliamo parlare della stagione che ha fatto Politano? E non la confrontiamo nemmeno con quella di Bernardeschi. Perché a prescindere dalla stagione che ha fatto Politano, meritava la convocazione, punto. Se le convocazioni hanno un sistema meritocratico. Ma invece temo di no. Temo che sia una questione di favori, di procuratori, di dinamiche, di scelte fatte prima, di gruppo che tu vuoi mantenere un gruppo tuo, eccetera, eccetera. È troppo brutto. Un giocatore come Politano, che ha dato l'anima quest'anno e che ogni volta che è stato chiamato in causa è stato decisivo, se no comunque è sempre d'impatto, sempre sul pezzo, viene chiamato, fai due gol e vieni rispedito a casa. È una roba che ti distrugge due volte. Sapete perché? Perché questi poi, tra di loro, parlano i giocatori e dicono, ma mi conviene andare al Napoli. Al Napoli non vinco, perché non posso vincere. Non parlo, perché non posso parlare. Non posso uscire di casa perché mi aggrediscono. Ah, la storia di Milik. Apriamo subito un'altra parentesi. E quante cose? Apriamo la parentesi. Milik ha detto, no? Avete voi parlato male di me? La traduzione di Google è stata sbagliata. Va bene, ma la chiudo subito. Sei peggio di Italia 1. Sì, ma ci arrivo. Insomma, vi rendete conto di come sta in questo momento? Lasciate un messaggio d'affetto per Politano qua sotto, che quello lo viene e lo legge. Mamma mia, come mi dispiace. Non si può vincere, non si può parlare, non si può... E non ti chiamano nemmeno il nazionale. Non lo so se è un fatto che giochi nel Napoli non ti chiamano. A finire che piangiamo. Ma meglio non piangere. Direi che la notizia... Ecco, arriviamo alla notizia più importante è che Giaccherini probabilmente lascia il Chievo Verona e pare sia a fine carriera. E quindi, insomma, c'è un'offerta del Cesena, ma potrebbe prendersi un mese sabbatico e decidere voi. Quindi tu devi parlare delle Iene. È un po' notizia importante. Giaccherini è ex. Ma quando mai? Hai paura dei dislike? Va bene, ne parliamo. Era uno scherzo. Ma sapete perché era uno scherzo? Perché le Iene hanno fatto questo tutta la sera. Adesso parte il servizio? No. C'è una vera politica avvocata che faceva film che truffava la gente. Mamma mia, mamma mia, non mi fate parlare. Quelle altre, le Escort, i Sugar Dead... Lasciamo perdere e parliamo di questa cosa, di questa inchiesta delle Iene. Che ragazzi, alla fine noi lo sapevamo già. Cioè, non è che ci siamo sconvolti. Uh, mamma mia, che cosa incredibile. Non abbiamo scoperto niente di nuovo. O meglio, un dettaglio è importante. Ah, premessa, perché sotto nei commenti... Ah, lasciate molti like, perché quando si scrive un titolo del genere arrivano i dislike preventivi di quelli che non si vedono manco il video. Io potrei anche chiuderlo qua. Non parlarne proprio e qualcuno direbbe Ma non sai che c'era il fallo su Higuain? Ho capito... Non ha importanza. L'episodio singolo non ha mai importanza. Perché se no io ti dico l'episodio di Quadrado e tu mi rispondi Eh, ma Petrankur! Non ha importanza, lo volete capire? L'importanza è il mentire. Quando uno mente per la gola. Quando uno, invece di rispondere, scappa con i cofani aperti. Quando uno dice No, no, gli avvocati in mezzo. E attacca. Non voglio parlare. Niente, niente. E quando vengono invece incalzati e devono parlare per forza perché non riescono a svincolarsi dicono bugie. Dicono bugie vere e proprie. Perché Rizzoli non solo dice la bugia che è una bugia che tu non hai bisogno di prove per sconfutarla. Non puoi dire, Rizzoli, no, quelli, gli audio e i file sono solamente sui casi. Eh, ma sei tu che li tagli dopo. Tu devi registrare tutto. Come fai a premere REC nel momento? Questo forse è un caso. Via, premo REC. Poi stacco subito. No, devi registrare tutto. Poi dopo magari mandi, ti mandano quelle là dei casi da protocollo. Il famoso protocollo. Il foglio protocollo che vi serve per uscirvene da questa cassa. Il VAR non poteva intervenire. Protocollo! Siamo tutti salvi. Vai, orsato. Vai in televisione a dire che hai fatto un errore. Tanto non ti possono dire niente più. Il VAR non poteva intervenire. L'arbitro è una persona umana che commette gli errori come lo commette un attaccante. Va reale, va reale. Peggio. Va reale il peggio. Sapete perché? Perché poi è scontenta noi, scontenta i tifosi della Juve, scontenta i tifosi del... Tutti scontenta. Proprio malissimo. L'errore va bene. Ma le bugie no. Signori, le bugie non vanno bene. Perché le bugie poi si va in tribunale. E bisogna andare in tribunale. Perché questi signori con arroganza hanno querelato quelli delle Iene che hanno fatto queste domande e queste ipotesi e illazioni. E quando tu quereli ovviamente il querelato viene in possesso di altri elementi e quindi vengono in possesso del video del VAR con l'audio effettivamente tolto. Ma come? Dice Rizzoli. Veramente? Chi l'ha separato l'audio dal video? Qualcuno l'ha separato. I rumori. Io come faccio a separare i rumori dal video? Non lo posso fare. Devo fare editing. Era un macello. Qualcuno lo ha separato. Perché l'audio delle altre immagini ci sta. Valeri che dice Daniele, Daniele senti a me senti a me il fallo è brutto. Invece non ce l'abbiamo. Però al di là del giochino del labiale che poi si capisce quello più chiaro quello più evidente è l'assistente che dice per me è giallo ma proprio il nervosismo per me è giallo cazzo cioè proprio giallo non ti posso dire niente di diverso è quell'ansia che tiene Valeri che la comunica non c'è bisogno di sentire le parole c'è un'ansia in quella sala var c'è proprio un'ansia generale lasciamo perdere il fatto del cartellino che tu lo stavi ammonendo poi ci hai pensato super è chiaro già non dobbiamo non dobbiamo investigare su questo ma le bugie sì perché se Rizzoli che prima dice non ci sono immagini quando mai se vediamo il video le vediamo insieme e adesso vedeteli insieme non rispondere no agli avvocati non ti posso parlare vedetele insieme questa cosa andrà avanti Rizzoli chiede a Rosetti l'occhio di Falco perché non mi mandi quelle perché ci manca tra le cose che mi avete mandato il fallo presunto di Pjanic che era il secondo giallo allora ce sta allora lo volevi vedere allora sai benissimo che c'è qualcosa che non va e non è vero che non esiste che non era una cosa da protocollo e quindi non esiste e non viene registrato signori miei ma signori miei la vogliamo finire di entrare in contraddizione di dire bugie dite le bugie va benissimo va tutto bene tra le altre cose scabrose sottolineiamo la risposta di quell'altro di Iorio come si chiama che era lì per apprendere prende prende ma non porta mai niente va a prendere lui ma non porta mai niente era lì per apprendere e lui risponde candidamente proprio preso alla sprovvizia dice tu mi metti in difficoltà mi prendi alla sprovvista non voglio dire nemmeno cose che possono darmi problemi personali niente di meno problemi personali non puoi dire quello che si è detto nella sala var perché puoi avere problemi personali signori miei è la limpidezza la chiarezza l'essere arbitro significa che tu sei arbitro sei al di sopra di tutto non dici bugie tu applichi solo le regole io devo chiamare immediatamente Guido Clemente di San Luca tu devi applicare solo le regole che sono queste cose che parli così che nascondi l'audio quello non può parlare quell'altro fa finta di niente oh allora quando poi noi parliamo di schifezze e non ci spieghiamo delle cose diciamo ma qua veramente questo quell'altro il Napoli è sceso in campo così perché hai sbagliato l'ultima partita e che me lo toglie dalla mente a me che se il Napoli non avesse sbagliato quell'ultima partita qualche cosa al 94 sarebbe successo perché poi ci sono andati vicini perché se Petagna segna su cross di Mertens l'uomo finito un calciatore finito se poi segna Petagna guarda che è tosta però hanno fatto il possibile questa è l'unica storia che c'è rimasta del calcio è che loro fanno il possibile ma alle volte c'è l'imponderabile che avviene loro fanno il possibile che cos'è il possibile è annullare il gol di Osimeno contro il Cagliari così porti la partita sempre in bilico e l'imponderabile è che il Cagliari effettivamente pareggio quello loro lo fanno l'imponderabile è che la porti fino sul 2 a 2 fino alla fine e poi tocca a Quadrato fare qualcosa di incredibile se no il rigore non te lo possono inventare e Quadrato sa come fa quello è l'imponderabile dopodiché la spinta su Mertens e loro possono tranquillamente far finta di niente e lì va bene però se entra il gol di Bretagna lì avviene l'imponderabile noi parliamo di una bella storia signori purtroppo questo è metteteci mettetevi l'anima in pace speriamo che Spalletti proprio l'uomo di Juventus proprio lui che poi è al centro di polemiche ma tu hai sostituito Icardi hai messo Santon notizie di mercato che si inseguono eccetera eccetera che Emerson Parmieri lo voglia anche Inzaghi vabbè voi mi fate sapere che cosa ne pensate io nel frattempo cerco il numero di Guido Clemente di Sanluca vediamo se riesco a contattarlo ma giusto per farvi dire le cose come stanno con termici con termini tecnici giuridici di diritto io posso semplicemente osservare indignarmi e dirlo sapete perché? perché la cosa peggiore di tutto questo la corruzione le schifezze in Italia lo diciamo sempre se l'Italia è un paese così se il mondo è così perché il calcio deve essere esente da queste cose ma il racconto dopo quello delle Iene non ha solo telefonato a Rizzoli a Orsato a Valeri a tutti quanti hanno detto no 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 gli avvocati non parliamo clic me ne scappo col cofano aperto hanno chiamato anche Piccinini Caressa Dani non vogliono commentare è lì il problema da New York Valerio Fluido è tutto alla prossima scusatemi le pubblicità gli interventi insomma ma così fanno in televisione io penso di fare il programma quindi quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci si deve cliccare sopra la cosa così poi cliccate sulla campanella poi vi iscrivete al canale Telegram e di più dai basta sei cringe quante cose tutte le cose belline mi ricordo mi chiamo hezz